Questo film è dedicato a quanti, anteponendo a tutto il loro amore per la patria, sacrificarono la vita, gli ideali, gli amori, i compagni. Narra le gesta di uomini coraggiosi, ai quali il mondo intero deve ammirazione e gratitudine per la libertà. L'armata degli eroi. Tra un minuto vi volterrete con la schiena alle mitragliatrici e guardando il muro. Correrete più forte che potrete, non spareremo subito, vi lasceremo una possibilità. Chi arriverà fino al muro sarà fucilato più tardi con i prossimi condannati. Philippe Chervie, 41 anni, ingegnere, carattere impossibile, uno dei capi, va trattato duramente. Per la libertà è disposto ad uccidere, più volte arrestato è sempre riuscito ad evadere. Sorvegliare attentamente. Polizia, documenti. Polizia, avanti, accertamento di identità per tutti quanti. FELIX, ho parecchie pillole di cianuro. Ne vuoi una. Facciamoci, non facciamo storie. Donat deve morire, lei è venuto per questo, ci aiuterà. Aveva chiesto di fare qualcosa di difficile. Eccola accontentata, non si lamenti. Dica a FELIX che gli operatori chiedono i nuovi quarti. Le frequenze sono cambiate. Si avvertono i signori viaggiatori che verrà effettuato un controllo del bagaglio all'uscita del marciapiede. Abbiamo ricevuto nessun sede a Matilde. I tedeschi le lasciano la scelta. O denuncia tutta la gente importante che conosce tra noi, oppure sua figlia sarà spedita in Polonia, in un bordello per soldati reduci dal fronte russo. Partirà con lei in barca da un altro punto. L'accompagnerà le bisogni. E aspetterete il mio segnale quando sarò a porto a tre punti luminosi e una linea. Attenzione, ATTENTION, CAPTACS BEGIN. CONTITORIAL 1, CLEAR THE BRAIN, WATCH YOUR STEPS. Maccallo! I CLEAR THE BRAIN